La figlia di campioni si sta con la giustizia di rapporti, forse sta più a visitarmi, è lo spazio di rapporti. Terzo è prestificato, ha seduto fino alla fine dei distretti, ha vissuto un momento da leader ma non ha bollato. 9 ore, 58 minuti e 40 secondi del GP3-1, Diego Gazzari! Grazie a tutti! Non c'entra il fondo? Rifacciamola, rifacciamola! Emilio, Emilio, ci vuole anche il Presidente! E un applauso finale, grazie ragazzi che è stato i nostri protagonisti! E chiamiamo un attimo anche le attività femminile, Manuela Ione, che è Maria Conte, di venire gentilmente qui sul palco. La mia testa è bollente, guarda! Maria, c'è ancora la forza di correre. Foto di Rita. Grazie! 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 Grazie!